Un sapore dolce, delicato ma intenso al tempo stesso e il profumo inconfondibile delle cipolle. Questi anelli sanno intrigare sia gli adulti che i ragazzi, sono amatissimi da tutti. Possiamo presentarli a tavola in abbinamento a piatti di carne, specialmente pollo fritto oppure salumi e formaggi. Certamente li avete gustati qualche volta in pizzeria, ma farli a casa è semplicissimo e adesso vediamo tutti i trucchi per ottenere un risultato perfetto. Ci serviranno innanzitutto due cipolle abbastanza grandi, 200 g di farina 00, 320 g circa di acqua frizzante molto fredda, del pan grattato, della paprika, un po' di sale e olio di semi per friggere. Innanzitutto puliamo le cipolle, le sbucciamo, tagliamo quindi lo strato più esterno e poi ricaviamo delle fette orizzontali dello spessore di un centimetro abbondante. Dividendole otterremo tanti anelli che faremo attenzione a non rompere e tufferemo in una ciotola con acqua fredda e ghiaccio. Lasciamo gli anelli in ammollo per circa un'ora e questo è importante per ottenere cipolle intanto più digeribili e poi anche meno pungenti. Al termine di questa attesa preleviamo le cipolle e le asciughiamo con carta assorbente. Possiamo adesso occuparci della pastella che poi renderà le cipolle croccantissime. In una ciotola mettiamo la farina setacciata, aggiungiamo un po' di sale e la paprika e a poco a poco andiamo versando l'acqua frizzante ben fredda. Lavoriamo intanto con una frusta per sciogliere tutti i grumi, dobbiamo ottenere una pastella fluida e liscia. Quindi la quantità di acqua necessaria può variare di volta in volta in base alla farina utilizzata. Dobbiamo regolarci un po' ad occhio sapendo che la pastella dovrà essere comunque piuttosto liquida. Passaggio successivo, non ci resta che bagnare ogni singolo anello prima nella pastella e infine nel pangrattato facendo aderire bene quest'ultimo. Completato questo lavoro si passa alla frittura. Scaldiamo olio profondo, quindi abbondante, lo portiamo ad una temperatura di circa 175 gradi e friggiamo le nostre cipolle poco per volta. Ci metteranno davvero poco per apparire ben dorate e croccanti. Le preleviamo, scarichiamo l'olio in eccesso su carta assorbente ed eccole pronte da gustare caldissime, magari accompagnandole a delle salsine per renderle ancora più golose. Antipasto, contorno, apericena, servitele quando vi pare, ma fatemi sapere cosa ne pensate, se le provate, se vi piacciono. Io intanto vi aspetto sui nostri siti cibodoc.it e vivomangiando.it con tante altre ricette. Grazie.